Oltre al messaggio di Cordoglio che ci fu nell'imminenza della tragedia del primo dicembre, oggi il sindaco di Prato ha ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica? Sì, nel senso che io avevo immediatamente riscritto dopo l'interessamento che lui aveva manifestato con il Presidente Rossi ringraziandolo dell'attenzione che aveva posto e invitandolo appunto nella nostra città. Proprio oggi ho ricevuto la lettera datata 9 dicembre nella quale lui ringraziava dell'invito, faceva presente di quanto questa tragedia abbia scosso tutta l'Italia e quanto abbia messo in risalto quello che è il problema del ripristino della legalità sul territorio di Prato. A contempo ha detto che la segreteria si sarebbe interessata affinché il Presidente Rossi e il sindaco avessero un incontro lì al Quirinale. Questa non è una semplice gratificazione, sapere che non sei solo e che comunque le istituzioni ai massimi livelli sono in qualche maniera sostenute e appoggiate.